ok siamo in live benvenuti a tutti in questa nuova live dal titolo marketing ed fshd oggi ho il piacere di intervistare il formatore di marketing affetto da fshd il mio canale youtube roberto santoli buonasera e benvenuto grazie io sono roberto santoli per cui a questo accento un po così sulle tre vocali ma è indifferente per cui su santoli però è anche difficile aver diciamo azzeccate il cognome esatto la pronuncia esatta sono un consulente formatore di marketing con oltre dieci anni di attività e faccio soprattutto formazione online con in passato ma anche attualmente la mia accademi in passato avevo utilizzato per il grosso del mio catalogo dei dei corsi udemy che è un servizio internazionale un catalogo di corsi migliaia di corsi mi appoggiavo lì poi ho aperto la mia accademi e in essa erogo i miei corsi nella locandina indicato content marketing perché sono verticalizzato diciamo specializzato nel content marketing perché mi piace molto sperimentare diversi formati di comunicazione per cui non solo una comunicazione testuale ma anche multimediale io con nello diciamo mi ha mostrato anche i miei diversi canali youtube o diversi siti eccetera ma in questa diretta anche a seconda di ciò che mi chiederà nello oppure anche andato diciamo abbraccio vorrei parlarmi un po sia del mio lato personale di affetto da distrofia faccia lo scapolo merale fshd come acronimo internazionale e sia da come sono riuscito a crearmi un lavoro che faccio direttamente da casa per cui non devo diciamo diciamo muovermi per cui andare fisicamente dal cliente oppure fare un lavoro che mi impiegherebbe anche più tempo sia personale che lavorativo anche perché in famiglia siamo un po tutti disabili ho anche mio fratello con la distrofia mescolare la mia stessa distrofia e poi adesso mia madre che ha avuto lictus per cui sono disabile ma sono anche caregiver di altri disabili per cui una situazione un po particolare che però fa da me da stimolo per non avvendermi e per progredirmi nello hai qualche domanda inizialmente parlando della fshd potresti raccontare più o meno la tua esperienza con questa patologia e come l'hai scoperta allora l'ho scoperta nell'adolescenza alla fine come la maggior parte diciamo io parlo diciamo un po della mia famiglia l'abbiamo scoperta per il mio fratello che ha avuto una forma un po più pesante però può ancora diciamo essere autonomo nelle sue cose e a lui ha preso soprattutto le spalle tanto che poi si è operato anche alle scapole almeno prima si faceva così adesso non so se si fa ancora diciamo si faceva un'operazione alle spalle l'ha fatta a potere in francia e però non gli ha servito non è servito a niente perché alla fine poi è preso anche le gambe eccetera invece io l'ho scoperta più quando diciamo fatto l'università anche se mi sono laureato tardi a 34 anni e già diciamo prima della laurea notavo che non riuscivo più di tanto a camminare perché ho entrambi i piedi cadenti e utilizzo un supporto che non è la molla di Coderil che diciamo almeno quando la diagnosticarono a me ancora non c'erano i modelli nuovi che adesso mi dovranno anche dare perché vengo seguito da un centro del mio paese che è un centro specializzato in neologia da oltre 40 anni di esperienza vi sono diciamo diversi specialisti nonostante diciamo il mio paese Grotto Vinalda sia un paesino di 8000 abitanti però ha anche questo centro specializzato e che mi segue nei supporti nella riabilitazione eccetera prima diciamo di avere adesso me li devono dare sia la molla di Coderil in fibra di carbonia sia le scarpe diciamo su misura sto utilizzando da oltre dieci anni un supporto un foot dropper che si chiama Podartis Dictus adesso te lo posso anche mostrare perché ho anche una scatola in più è questo adesso lo vedete diciamo storto perché però trovate sul mio canale YouTube che poi inserisco nei commenti a fine diretta cioè dopo la diretta inserirò il mio canale YouTube con il video specifico dove recensisco proprio nel 2014 quando ho iniziato a provarlo questo supporto ed è molto utile perché diciamo si fissa con dei fercri del velcro diciamo alla caviglia e poi con due ganci che si mettono nelle scarpe diciamo nei buchetti delle scarpe e poi un elastico che fa da trazione diciamo e fa alzare piede sui talloni per cui è molto all'inizio avevo difficoltà come tutte le cose tutti diciamo gli ausili però mi sono adattato e vado benissimo adesso diciamo cammino normalmente potrebbe camminare una persona senza disabilità ogni tanto però mi devo stare attento perché alla fine i piedi cadenti vanno a tendere con il piedino avanti con la diciamo la punta del piedino avanti e si possono diciamo prendere i terreni diciamo ad esempio difficoltà ancora nonostante questi supporti nelle parti storiche dei paesi o delle città per cui mi faccio sempre può aiutare anche da altri amici a percorrere le discese o diciamo superfici dove è un po più pericoloso andare percorrere anche quei coimenti antichi alla fine sì sì dove ci sono ciottoli eccetera e questo è un supporto che io utilizzo per stare ancora in piedi per camminare anche per un po tutta la vita quotidiana altri supporti sono un po per il bagno ad esempio utilizzo per io non ho la doccia o la vasca utilizzo la sedia che si gira diciamo è molto facile farsi diciamo una doccia all'interno della vasca e poi mio fratello non tanto io utilizza anche un un alza water per mettersi un po più alto rispetto al all'altezza standard del del water diciamo ci potrebbe un bagno che si viene a essere diciamo architettato apposta per noi disabili non so tu nello se hai questo già fatto diciamo queste modifiche a casa tua per adattarla non è non hai di queste esigenze diciamo che già ti muovi bene eccetera è vero per altri visionari è molto comodo comunque vi sono diciamo anche un un libro specifico su amazon si proprio distrofia o fshd e architecture una cosa del genere che detto è proprio è un libro che è stato scritto proprio da un architetto che è in famiglia dei la stessa nostra diciamo patologia e e ha strutturato tutta la casa nel libro fa vedere proprio un libro molto grande con le immagini molto chiare come ha strutturato tutta la casa dal dall'esterno fino agli interni per cui ero curioso proprio di andarmi a cercare un po tutti questi libri poi ho visto che anche altri tuoi ospiti di altre live hanno scritto dei libri proprio specifici per le distrofie eccetera e per cui io lavoro prettamente online da casa mia ho strutturato un po' un tavolo alla fine mi serve un tavolo a me è più che oppure un notebook non ho diciamo esigenze di uno studio perché facendo formazione e consulenza a distanza alla fine l'importante per me avete una connessione performance e performante per cui connessione internet performante è un e diciamo un computer performante perché vado a registrare diversi corsi e ad esempio nella non so se puoi togliere diciamo questo stream di alta mostra e commenti se questo bannerino che sta su tutta la diretta non so se ci dovrebbe essere c'è un stream di alta proprio una funzione che toglie questo questi commenti nel frattempo continuo per cui pochi requisiti alla fine ok grazie nello e pochi requisiti alla fine una connessione a internet un computer fisso notebook abbastanza performante poi dipende anche dalla da quale lavoro si va a fare io parlo soprattutto di me partitei era forfettati a come consulente di marketing consulente formatore anche come consulente di creazione siti internet e per cui una parte diciamo legale fiscale che ci che ci viene data dal nostro commercialista per cui un commercialista può essere fisico diciamo locale nel proprio paese città oppure anche online ad esempio sono passato ho aperto partito con un commercialista a distanza poi per alcuni anni sono stato commercialista nel mio paese adesso sono ripassato ad un commercialista e un software online perché alla fine e nel primo periodo che abbiamo bisogno un po più di formarsi quando apriamo una partita iva un'attività in generale per poi camminare con le nostre gambe essere autonomi per cui soprattutto in un lavoro come il nostro come il mio di consulenza e non c'è tanta necessità di essere seguiti passo passo da un commercialista cosa diversa rispetto a una situazione volevo proprio chiederti questo quanto il lavoro a distanza ti ha aiutato a superare diciamo la patologia e a evitare diciamo questi spostamenti che poi sarebbero difficoltosi no certamente l'ho detto prima è una manna dal cielo diciamo questa evoluzione dell'informatica per cui anche perché io abito in un piccolo paese della provincia di avellino per cui anche lontano un po' lontano da napoli da salerno da altri diciamo metropoli più grandi della campagna e anche da roma e altri centri molto più grandi per cui avevo due strade essendo difficile fare un lavoro tradizionale per me perché anche a livello muscolare la mia passione era quella informatica diciamo di lavorare in un negozio di computer pure aprirlo però poi a un certo punto mi sono detto è molto molto difficile sollevare computer e fare altre diciamo me lo faccio per me una smontata del mio computer ma sollevarli e fare diciamo altri lavori più fisici per cui anche poi con la laurea anche pesanti alla fine è certamente a livello proprio fisico è un po' è difficile se non impossibile per la nostra patologia può essere facile quando ancora non si espansa tutto diciamo la patologia diciamo perché siamo un po tutti diversi alla fine con le fsd che possono diciamo colpire diverse masse muscolari a chi è anche come differenza tra me e te diciamo a te ha colpito maggiormente gli occhi eccetera a me no però ho accoppito altri altri fasce muscolari per cui è anche difficile sperare in una cura è quasi impossibile la cura per noi perché avendo diciamo fasce muscolari diversi ad esempio metto la mia mano ma anche ci può essere comunque una fase di latenza e poi una fase di espansione diciamo imprevedibile e questo è ti dicevo per cui a me ha colpito maggiormente i natal d'urta a te credo da piccolino dalla nascita e altri anche nella vecchiaia possono ad esempio a mio padre che alla fine è stato diciamo il portatore che ci ha trasmesso l'fshd lui non aveva consapevolezza dell'fshd la scoperta solo negli ultimi anni di vita quando ha visto che la sua mano diciamo si è già muscoli della mano si sono ritratti ed aveva la mano così diciamo chiusa non poteva una delle due mani oltre a problemi nella camminata e la scoperta per cui negli ultimi anni di vita per cui anche a livello anche perché io sono del 78 sono nato mi fa del 76 ancora credo che non c'era in quegli anni nella mia centesi né altre diciamo forme di prevenzione di anche studio del distruzione muscolare faccio scoperta non so quando è stata scoperta nello specifico la nostra patologia patologia negli anni 80 credo ci sono stati sviluppi successivamente poi sono a base di stagnazione adesso stanno quello che ho capito cercando di sviluppare nuovi trial quindi diciamo che in questo periodo c'è una maggiore attenzione rispetto a questa patologia quanto non c'era negli anni precedenti anche perché siamo un po' abbandonati da noi stessi diciamo non avendo un un protocollo standardizzato diciamo anche nella riabilitazione ad esempio esempio è che la nostra patologia per esempio non rientra nella tabella nel 92 perché sono tutte le altre distruttive e dal duchenne la legge 104 quello che ho capito io l'ho presa perché non sono un'obbedente ma non per la patologia no mio fratello ha presa per la patologia sia il 100% che la 104 come distrofia faccio scavolo numerare esatto però l'ha presa nel 2000 mi pare vabbè non quando è nato per cui stavamo dicendo lavoro a distanza mi ha diciamo sbottato alla fine per cui mi ha aiutato moltissimo per cui ho aperto 5 anni fa 5-6 anni fa la partita io perché prima lavoravo sia come dipendente che poi come dicevo tutti i riscali diciamo e poi ho aperto io la mia partita io anche perché ho diciamo realizzato tutta una serie di corsi che ho poi venduto su un sito internazionale che dicevo Udemy che ancora è un sito molto molto grande ma poi ho deciso di camminare di nuovo con le mie gambe e creare tutta una cosa mia diciamo una mia academy con miei diciamo studenti eccetera per cui alla fine fondamentalmente abbiamo bisogno di un computer o di un notebook dipende da che tipo di computer si vuole mettere e da una connessione a internet e poi diciamo per chi vuol per chi inizia io suggerisco per chi diciamo anche è un po' più piccolo di me per cui è studente anche diciamo tu come diciamo Nello come studente di comunicazione essendo io lavorato in comunicazione mostrano altri anche diciamo dei suggerimenti in questo senso per chi è studente in comunicazione di uscire nel proprio curriculum di esami a inserire anche esami di marketing non so se adesso è possibile perché nella mia laurea in tre curriculum comunicazione d'impresa comunicazione d'impresa sì e io suggerisco comunicazione d'impresa perché dovrebbe esserci anche tutta una parte di marketing e anche se non c'è andare ad esempio dal terzo anno a scusami devo mandare un messaggio velocissimo sì con piacere due secondi ok vediamo se lo capisce ok allora dicevo nel primo e secondo anno di comunicazione sono esami diciamo un po' pedeutici e poi dal terzo anno per cui l'ultimo anno alla fine per un diploma universitario andare a inserire anche esami di altre facoltà io ad esempio allora inserì i primi esami di marketing perché nel 2014 a Fisciano dove sono lavorato per l'università di Salerno ancora non c'erano diciamo degli esami di marketing specifici che poi mi avrebbero portato l'altro anche nel mio lavoro per cui ho inserito alcuni informati a facoltà di informati alcune facoltà di economia per cui andare a spaziare anche su facoltà che poi nel complesso ci danno le basi per quello che andremo a fare successivamente ad esempio anche nella tesi non ho inteso la tesi come un qualcosa da togliere poi diciamo da fare subito per laurearmi ma l'ho intesa come una base per cui come un un primo libro che poi è stato diciamo la base per la mia ricerca successiva che poi mi ha portato ad aprire partita IVA per cui fece una tesi proprio sui tools di content marketing di content curation per cui diciamo di ricerca e assemblamento e diciamo di creazione di creare dei contenuti presi dalla rete su determinati argomenti per poi di impacchettarli e di pubblicare diciamo è un mix di contenuti che è una parte del content marketing e per cui andare a concepire tutto il proprio percorso dei studi avendo degli obiettivi che possono anche poi nella vita cambiare perché noi siamo dinamici nella vita e però in quel momento andare ad avere un obiettivo e cercare tutta una serie di informazioni da volta avanti per cui Nello tu già hai una buona base in queste live che stai facendo anche lo sviluppo del canale YouTube perché già stai facendo comunicazione che poi ti può essere molto facile anche dei esami specifici che ti andrai diciamo a trovare ad affrontare nel tuo percorso universitario per cui diciamo è un sono delle CFU virtuali in più che hai perché proprio sei hai avviato questo canale YouTube un po' stai curando la comunicazione su Facebook su altri social soprattutto per farla conoscere alla fine questo è l'obiettivo per cui hai già una base forte sì hai già una base forte da cui partire esatto ok e un'altra cosa consiglieresti tipo affetti da distrofia fascia scapolo merale il lavoro a distanza e quali strumenti consiglieresti certamente per cui il lavoro a distanza ci va a semplificare un po' la vita però dipende anche dalle nostre passioni ad esempio anche dal tipo di lavoro sì è certo dipende anche soprattutto dal tipo di lavoro che uno fa per cui però diciamo in generale in generale se si fa consulenza di qualsiasi tipo per cui non solo di marketing ma a distanza per cui anche avvocati commercialisti qualsiasi diciamo lavoro che è possibile fare a distanza non operai perché anche se possiamo diciamo fare gli operai a casa nostra e aprire il nostro punto a casa nostra però la maggior parte dei lavori intellettuali che si possono fare a distanza io lo consiglio anche come punto iniziale per cui se ad esempio ancora la nostra FSHD non è ancora nel culmine per cui abbiamo problemi a sollevare le cose eccetera se ancora stiamo bene per virgolette possiamo anche pensare a un lavoro tradizionale però alla fine secondo i studi proprio basi basici diciamo della nostra distrofia non dovremmo fare sforzi fisici per conservare i nostri muscoli se ci sono scuole di pensieri diverse oggetti troppo pesanti certo diciamo mettere troppo dura prova i nostri muscoli poi anche dipende quali muscoli ci sono i vasti attivi e quali si stanno tra suono di grasso eccetera però queste sono cose più che io rimanderei ai confronti che sono anche nel tuo canale youtube tra gli esperti della vostra associazione FSHD Italia per cui pensare al lavoro tradizionale se stiamo ancora bene oppure poi andare direttamente al lavoro online a distanza e darci delle opportunità in più perché alla fine anche al di là se abbiamo una pensione di invalidità per cui abbiamo il 100% 104 eccetera anche per il nostro diciamo crescita personale il lavoro è fondamentale per cui al di là del nostro livello di disabilità lavorare ci fa crescere tantissimo come persone per cui anche con non so la compatibilità fa il 100% di invalidità con una pensione se si può lavorare però credo che si possa lavorare non so Nello tu hai non lo so nemmeno io un sì vabbè basta chiedere a un caffo un commercialista per capire se è possibile conciliare credo che fino a un certo livello di fatturato anche al 100% si possa agire mi pare che sono fino a 4.000 euro di diciamo guadagno per chi ha 75% e ha diciamo una pensione invalidità 75% e mi pare fino a 14.000 euro per 100% da questo da ciò che leggevo diciamo come mio formazione personale perché io ho il 67% di invalidità per cui ho sì diciamo dei ticket da 5 euro e gli ausili però non ho nessuna pensione anche perché poi quello del 75% riguarda anche il livello di ISE per cui se si hanno diciamo case intestate è difficile da ottenere mentre indipendente da proprio diciamo da ciò che si possiede per cui dall'ISE è il 100% di invalidità per cui ad esempio anche per le partite IVA che ci sono degli invalidi in famiglia ci sono anche dei bonus bonus cioè proprio il bonus proprio che è molto simile come terminologia all'invalidità non mi ricordo quando sono 500 valeri al mese in vale però dipende dall'ISE e anche se nel nucleo familiare per cui diciamo un padre che ha la partita IVA anche se non è disabile se all'interno del nucleo familiare ha un disabile può avere il bonus partita IVA e la possono avere partita IVA con gestione separate oppure commercianti e anche altre tipologie di partita IVA e vi suggerisco di chiedere dal vostro commercialista perché io diciamo non sono un commercialista ma sono uno che si informa parecchio per cui mi spazio una parte e l'altra perché mi piace diciamo formarmi nei diversi aspetti della mia attività per cui non solo diciamo nel marketing ma anche aspetti legali e fiscali per cui nella mia attività poi mi inserisco un po' di link come commento alla riferita per cui diciamo commento su YouTube o anche nei gruppi dove appare questo post con la live mi inserisco un po' di miei riferimenti perché ho una playlist intera diciamo anche se adesso sono 3-4 video dedicata alle disabilità dove mostro anche alcuni uno zaino ad esempio dove posso inserire un bastone che si piega e utilizzavo quando andavo in gita adesso è sconsigliato ma anche sconsigliato diciamo dal mio fisioterapista che più mi consiglia di utilizzare quando mi arriveranno la molle di Rodeville e anche le scarpe personalizzate più che altri supporti per esempio quest'anno purtroppo sono rimasto bloccato a maggio fuoriuscita l'elgine al disco le 5-6-1 classica però mi è uscita tutta quanta e sono stato due mesi che dovevano aiutarmi proprio ad alzarmi dal letto per cui ho fatto oltre 50 iniezioni di antifiammatorie eccetera per starmi un po' in piedi ho fatto anche diciamo agopuntura e adesso sto facendo la fisioterapia che è stata risolutiva per quanto riguarda questo mio blocco della schiena e in questo ho utilizzato sia quel bastone sia anche il girello proprio il girello con le quattro ruote per uscire e fare diciamo un po' di vita e per cui ci sono tante sfide alla fine nella mia vita io ho 45 anni sono 45 anni di sfide però cerchiamo sempre di non isolarci e anche l'associazione di di cui fa parte Nello per cui FSHD nel Lazio come anche dalle mie parti per cui a Napoli c'è la seconda università di Napoli che diciamo il centro nevalgico per le distrutture muscolare e poi c'è anche il centro nemo di Teleton provincia di Napoli per la riabilitazione e poi ci sono tutti questi centri che purtroppo fanno poca comunicazione io lo dico sempre diciamo al mio telepista comunica con i negati più per farla diciamo per l'abilitazione nei piccoli centri un po' sparsi per cui poi inserisco anche il link alla pagina facebook di questo mio centro perché chi si trova nella provincia a livellino oppure diciamo anche in campagna può pensare di farci un giretto perché mi stanno aiutando tantissimo anche a livello proprio di pratiche alle ASL per ottenere i sopporti eccetera in modo gratuito a seconda anche della recente quale che abbiamo ma da 60% in più abbiamo diciamo i sopporti ausili gratuiti invece per le visite paghiamo un ticket minimo in campagna poi non so diciamo tu nello sei nel Lazio non so a te diciamo come diciamo la gestione delle diverse visite patto paghi un ticket sono totalmente gratuite tu hai la 100% anche io comunque abito in campagna ma le visite ah si campagna scusami mi confondo sempre con l'FSH di Italia scusami di Salerno scusami siamo campagna entrambi ti associo sempre diciamo a FSH di Italia perché sta in Lazio diciamo sì sì Gemelli il professor Ricci comunque è lui che mi segue perché io prima nel fino al 2017 ero seguito a Favia quindi era anche più distendioso anche per me era più stancante così una visita due ore due ore e mezza poi torni certo la perota diciamo in famiglia mi hanno seguito quelli della seconda università di Napoli e tanto che prima di ottenere il 67% feci proprio dei ospiti diciamo alcuni giorni proprio adesso che stanno diciamo nella parte vicino allo stadio mentre prima stavano non so se stanno ancora proprio in via degli ebrai sopra via degli ebrai a Napoli e loro ci hanno seguito fin da piccolini per cui mappa genetica altre cose che abbiamo fatto diciamo per scoprirle e approfondire la nostra patologia e poi un po' spalso perché alla fine due anni e mezzo ho viaggiato mezza Italia quindi non è che ci credo già da quello che mi hanno raccontato sono partito Napoli Roma Bologna Verona Genova Modena Modena mi fecero la Tupler mi sembra la Tupler sì il test genetico però mi sembra che quello che il primo sospetto ha di FSHD sul mio pulista a Bologna e perciò ho lavorato con pazienti affetti da FSHD negli Stati Uniti quindi diciamo che va già una base in relazione a questa patologia perciò dobbiamo fare io e te e anche diciamo tanti altri tanta tanta divulgazione perché alla fine anche dopo che ho fatto uscire il la recensione dei miei supporti per camminare perché mi hanno contattato diverse famiglie anche diciamo far guardate disperate perché non uscivano a trovare una via diciamo anche iniziale dove poter andare per la diagnosi iniziale anche per le prime i primi step perché effettivamente non c'è una via cioè adesso sì anche cercando su Teleton eccetera diciamo c'è un un percorso anche suddiviso con le diverse regioni d'Italia ma prima era veramente una giungla totale avevi un mezzo sospetto non sapevi neanche il medico di base non sapeva niente e specialisti è stato prima abbiamo fatto a febbraio dell'anno scorso un incontro con i medici di base della melinco di salerno sempre nell'ambito di divulgazione di questa patologia infatti se volete la diretta la trovate anche sul canale youtube e poi più avanti abbiamo comunque intenzione di fare un altro incontro sempre con i medici di base sempre nell'ambito di divulgazione per far conoscere la patologia è importante che anche loro per esempio adattano un paziente che non riesce a camminare bene oppure per esempio presenta problemi a livello scapolare uno può avere il suo rispetto che possa essere questo tipo di patologia io mi vedo più attivi tra Napoli e Salerno diciamo che Avellino quasi niente su questa nostra patologia diciamo per cui cerco anche io di essere un po' apripista sono più diciamo concentrato da Avellino sullo spettro orlistico e altre patologie rispetto alla nostra però se posso mi ruvo anche in modo più ampio sì sì per cui Nello fai benissimo a divulgare continua sempre sempre così poi a livello proprio di strumenti diciamo fisici o software per il mio lavoro dipende anche dal lavoro perché il marketing è vastissimo io sono specializzato nei contenuti ma ci sono anche specialisti nel posizionamento dei siti nei motori cerchi la SEO oppure a pagamento la SEA diciamo ciò che vediamo all'interno dei motori cerca quando facciamo una ricerca le sponsorizzate quando c'è scritto sponsorizzato quello è la parte di Google Ads o di Bing altri motori cerca scusami è un po' bene questo l'affreddone mi attanaia oppure c'è il marketing per il commercio elettronico per le dirette come le nostre webinar marketing i social media marketing eccetera eccetera per cui anche diciamo chi sta vedendo la diretta o chi lo vedrà la differita potrà anche contattarmi oppure anche come commento in differita io potrò io potrò dare diversi strumenti che utilizzo anche a seconda del contesto e anche di ciò che si vuole avviare per cui sono totalmente disponibile a confrontarmi in differita ok allora potremmo anche finire qui va benissimo ti ringrazio comunque per essere venuto qui sul canale per aver condiviso la tua esperienza è sempre bello conoscere nuove storie e soprattutto cercare sempre di dar conoscere a te persone questa patologia e renderla meno sconosciuta quindi ti ringrazio e e buona serata a tutti grazie grazie a voi alla prossima grazie a tutti grazie a tutti